Votando sì che non ci libereremo mai più le cavallette per i prossimi trent'anni Io allora ho scritto fregnacce Perché? Lo chiedo a lei Perché? Perché sono sgarbi Sgarbi lo fa da sempre Come si migliora il problema della sanità in Italia? Ma di cosa stiamo parlando? Questa riforma non l'aveva chiesta nessuno E già Prima di tutto sti cazzi Grazie al Movimento 5 Cessi Aumentare la corruzione Il Question Time stavolta anziché in Parlamento lo faccio a fanpage Ma se è bene, è intrigante Io sono favorevolissimo a dimezzare lo stipendio di Di Maio, di Di Battista Ma anche di quelli degli altri partiti Mica solo del partito di 5 Stelle Come hanno proposto il 5 Stelle? Questo è falso Ma guardi, al di là Della male che può appassionarci La cosa fondamentale è darla in fretta Con grande fatica ma anche con grande tica I grandissimi figli di puttana Così ci definisce lo stato italiano E poi mi vengono a dire che io sono un coglione E poi mi vengono a dire che io sono un coglione E poi mi vengono a dire che io sono un coglione E poi mi vengono a dire che io sono un coglione